E' tempo di essere L'estate ma è soprattutto tempo di tricolore, l'omaggio alla nostra nazionale che ieri sera a Londra ha battuto l'Inghilterra ai calci di rigore dopo il pareggio tra i tempi regolamentari e supplementari nella finale degli europei 2020, appunto disputati in questa estate 2021. Buongiorno a tutti, bentrovati, buon inizio di settimana, buon lunedì, sono le 10.46, non potevamo cominciare la giornata ma soprattutto questa settimana e nella maniera più bella perché appunto dopo 53 anni portiamo a casa questo importantissimo titolo europeo. E allora saremo insieme fino alle 11.20 circa con tempo d'estate, andremo come succede quotidianamente a prendere qualcosa di interessante dei nostri archivi per riproporvi testimonianze e stralci di interviste e programmi che hanno caratterizzato questi anni della nostra programmazione televisiva. Vi ricordo che potete scriverci a info-teleradiopadrepio.it per inviarci le vostre foto di gruppo e detto questo, foto dei vostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, detto questo ci colleghiamo subito con Leonardo Fania che si trova all'interno della chiesa di San Pio per il consueto appuntamento quotidiano con quello che succede all'interno della chiesa, se ci sono gruppi o meno. Leonardo, buongiorno. Pensavo indossassi una maglia tricolore oggi, una maglia azzurra. E' il verde della speranza che ci ha accompagnato in questo mese di campionato europeo e finalmente la speranza si è coronata, siamo sul tetto d'Europa. A proposito di quello che dicevi prima Paola, l'argomento del giorno, io penso che questo ormai diventerà l'argomento dei prossimi mesi, dei mesi a venire perché la vittoria al campionato europeo della nazionale di calcio davvero è stato un evento straordinario. Dopo mesi di sofferenza tutti noi ci siamo ritrovati uniti, abbracciati sotto quel tricolore che abbiamo sventolato durante il periodo del lockdown, cantando l'inno nazionale dai balconi alle 18 in punto. Non so se ricorderai ma lo ricorderanno sicuramente i nostri amici come non dimenticarlo, quel periodo assurdo diciamo così che abbiamo vissuto e che oggi è l'emblema della festa. A proposito per ripetere di quello che tu dicevi riguardo ai gruppi, ecco qui oggi sembra di essere, non so se la metafora può essere giusta, al primo di gennaio, è presente il 31 dicembre, il capodanno, quando si rientra dal veglione, insomma dopo essere stati in giro tutta la notte, il primo gennaio è un po' la giornata del riposo nonostante sia quello il giorno della festa. Ecco oggi qui sembra di ripetere la stessa situazione perché davvero c'è un grande silenzio che ci accoglie in questa chiesa di San Pio da Pietrelcina, davvero c'è pochissima gente ma le ferie estive come tutti ben sappiamo ormai sono partite, dunque i luoghi di villeggiatura sono pieni e quindi San Giovanni Rotondo diventa una meta per il fine settimana. Infatti ieri e l'altro ieri davvero qui c'è stata tanta gente e poi riprendiamo il ritmo fino al prossimo fine settimana. Dunque stamattina spero di riuscire a incontrare qualcuno anche per chiedere un po' le emozioni a caldo di questa giornata speciale, di questa nottata speciale che anche dalla mia voce si sente è stata abbastanza intensa e vissuta. A te Paola. Grazie, grazie Leonardo anche per questa parentesi non solo calcistica ma anche emozionale che ci hai regalato sulla giornata di ieri. E a proposito d'Europa, proprio ieri la chiesa ha celebrato San Benedetto da Norcia che è patrono d'Europa mentre oggi la chiesa fa memoria dei Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia Martiri, due santi che sono patroni dell'Arcidiocesi di Gorizia, dell'Arcidiocesi e della città di Udine nonché da pochi anni di tutta la regione Friuli-Venezia-Giulia. Bene, detto questo appunto ricordando, abbiamo ricordato i Santi di oggi ma anche il Santo importante che la chiesa ha celebrato ieri San Benedetto da Norcia, sempre tratto dei nostri archivi abbiamo trovato un passaggio molto bello e soprattutto divertente perché se c'era una qualità che non gli mancava era proprio l'ironia. Sto parlando di padre Marciano Morra che è sempre nei nostri cuori e che, come dire, andiamo a ricordare con questi stralci delle tante ore di diretta che ha proprio qui, ha tenuto in questi studi con scenografie diverse però ha avuto modo davvero di vivere settimane e settimane, mesi e mesi, anni e anni nei nostri studi. Allora, ascoltiamo questo passaggio, era dicembre, non ricordo, ecco, del 2010, la scritta me lo ricorda, e si parlava dell'immacolata concezione e padre Marciano approfittò anche in quell'occasione per raccontare una barzelletta. La idea mi è venuta per la faccenda del testamento, l'ultimo messaggio e ci sta una madre superiore, fondatrice di una concreazione religiosa che sta lì in attesa di sorella morte. Le suore sono tutte costernate, stanno per perdere la loro madre fondatrice, quindi stanno intorno al letto che pregano, che si danno il cambio e la vicaria a fianco alla madre fondatrice sta lì a esortare la madre e ci dica qualche pensiero, qualche messaggio, un'ultima indicazione di come noi ci dobbiamo comportare e la madre fondatrice lì con gli occhi chiusi non dà segno e la vicaria insiste, madre, ma sa com'è, poi noi ci sentiamo orfane, ci dica qualche parola, non solo come consolazione ma come programma di vita. la madre fondatrice, niente, una suorina, dice però la madre ha le labbra molto secche, cerchiamo di dargli qualcosa, da innumerire le labbra e prende un cucchiaio di latte e fa cadere in questo cucchiaio di latte una decina di gocce di grappa e mette alle labbra questo cucchiaio e la madre fondatrice beve questo latte. ecco allora madre, ecco, sì, allora ci dica, ci dica che come ci dobbiamo comportare e la madre fondatrice, mi raccomando, mi raccomando, non vendete quella mucca che fa un latte speciale. Ricordo come se fosse ieri quella puntata qui nei nostri studi, appunto era dicembre del 2010, grazie sempre padre Marciano. E allora vogliamo darvi un consiglio di lettura. l'estate, quindi c'è la possibilità di avere un po' più di tempo a disposizione per dedicarsi al proprio, ai propri libri preferiti. È uscito da poco il nuovo libro dello scrittore e giornalista Gabriele Romagnoli, Cosa faresti se... Narratori Feltrinelli, Cosa faresti se nel tempo breve di una giornata o di un attimo dovessi scegliere tra due alternative, ognuna critica, ognuna in grado di ridefinire l'idea di te stesso e di cambiare il destino tuo e altrui? Questa è la domanda che si pone nel libro appunto l'autore, un romanzo teso e coraggioso in cui Romagnoli sonda la coscienza dei suoi personaggi e attraverso le loro storie ci interroga, risveglia domande che ci costringono ad affrontare il buio e il caos dentro di noi, sollecita dilemmi morali che ci rendono umani. Cosa faresti se ti chiedi a ogni bivio? Quindi questo è il nostro consiglio di lettura di oggi. E andiamo almeno idealmente a Roma. Papa Francesco è stato ricoverato per questioni di salute, ha subito anche un intervento chirurgico e ieri si è affacciato dal decimo piano del Policlinico Gemelli appunto a Roma circondato da alcuni amici speciali per l'Angelus. Ascoltiamo uno stralcio del suo messaggio. In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora o una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri Paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo. E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione in Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio è sempre gratuito. Non dimenticatevi di tutto, salvare le istituzioni gratuiti. E queste le parole di Papa Francesco, che auguriamo davvero una pronta guarigione e un ritorno alle sue attività pastorali. A proposito di Roma, rimaniamo nella capitale perché approfittiamo per salutare un'assidua telespettatrice di Padre Pio TV, la signora Iva da Roma. Grazie Iva, sappiamo che ci segui sempre, la tua stima e il tuo affetto sono fondamentali. Ma salutiamo davvero i tanti amici che ci scrivono anche le mail attraverso i nostri canali ufficiali, i nostri social. Grazie davvero per la vicinanza e l'affetto che ci fate sentire quotidianamente. Ci fa piacere che questo spazio mattutino o in diretta sia da voi apprezzato. E allora, apriamo l'angolo dedicato alle testimonianze. Oggi appunto non si parla d'altro, l'Italia ha vinto i campionati europei di calcio e allora vogliamo ascoltare una testimonianza di un grande del calcio italiano, Sandro Mazzola, intervistato dal nostro direttore. Mentre Picchi con quale motivazione voleva incontrare Padre Pio? Picchi voleva incontrare Padre Pio perché lui aveva un fratello maggiore che era andato in guerra in Russia e non era più tornato e non si era mai trovato il corpo e non si sapeva se era morto, se era prigioniero ancora, se era vivo, dove fosse andato. E lui voleva chiedere a Padre Pio se dall'alto potesse capire dov'era, però poi non mi ha detto cosa ha detto Padre Pio, non l'ho mai saputo. Ma almeno dal suo volto dopo il colloquio con Padre Pio riuscì a capire se aveva avuto buone notizie oppure no? No, non aveva avuto buone notizie perché arrivò che era tutto stranunato, tutto un po' arrabbiato diciamo con la storia della guerra eccetera eccetera. Torniamo alla sera prima, Padre Pio fece questa battuta, questi sono venuti qui perché vogliono vincere, ma ci fu una profezia di Padre Pio circa la partita del giorno dopo con il Foggia? Non me lo ricordo questo, non mi ricordo se disse qualcosa, l'ha presa tutta a sorridere effettivamente la cosa, di questi calciatori che… Quello a cui ci stiamo riferendo è stato l'unico incontro con Padre Pio? Sì, l'unico incontro. Quell'incontro in che modo ha cambiato la sua vita? Ed è continuato in qualche modo il suo rapporto con Padre Pio? Ma lei dirò che io ho parlato spesso con lui dopo quell'incontro, cioè quando ero in una situazione difficile o in famiglia, un bambino ammalato, oppure la squadra andava male, io stavo andando male, ho avuto un periodo in cui avevo dei problemi fisici, non riuscivo più a rendere come prima, e alla sera prima di andare a letto mi mettevo lì in ginocchio e parlavo, parlavo con Padre Pio. E ha mai avvertito anche in maniera indiretta la sua presenza? Ma quello che succedeva è che dopo mi sentivo più sereno, più tranquillo. Questo sì, rispetto a quando avevo cominciato a parlare, che ero nervoso, ero agitato. Qual è il suo rapporto con la fede? Abbiamo capito che preesisteva anche prima dell'incontro con Padre Pio, visto che fece questa sorta di voto al Signore. Poi è continuato questo rapporto con la fede? Sì, è sempre continuato. Cioè magari non sono tanto di andare tutte le volte alla messa, eccetera, eccetera, però in ogni cosa che io devo fare faccio sempre un pensiero, dire ma sarà giusto, da là mi guardano. E soprattutto anche quando devo magari sgridare uno dei miei nipoti o dirgli qualcosa, ci penso sempre un attimo, guardo in alto e dico è giusto che lo faccio e poi dopo o lo faccio o non lo faccio, a seconda di quello che penso che mi è stato detto. Una bella testimonianza. Poi continueremo anche nelle prossime settimane ad ascoltare questi brevi stralci appunto delle interviste, delle testimonianze, delle tante storie che abbiamo raccontato qui su Padre Pio TV. E allora, infochiocciola, teleradiopadrepio.it, vi ricordo di nuovo la mail, qualora abbiate voglia di condividere con noi e con i nostri telespettatori le foto dei vostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, inviatecele e spiegateci magari anche in quale occasione siete venuti qui pellegrini, che anno era, se è una ricorrenza particolare, insomma. Quindi infochiocciola, teleradiopadrepio.it oppure chiamandolo 0882 41 83 80, c'è la nostra Grazia Pia, prontissima a rispondere alle vostre telefonate. Noi ci fermiamo pochissimi istanti, brevissima pausa e poi ancora insieme con il nostro Tempo d'Estate. E Tempo d'Estate su Padre Pio TV e anche Tempo di Tricolore. Oggi siamo partiti con la nostra bandiera, la bandiera italiana, che ormai davvero da settimane sventola sui balconi e dalle finestre delle nostre case, delle case degli italiani. ieri ha sventolato anche per strada e nelle piazze, proprio per festeggiare questa importante vittoria. E a proposito di saluti che arrivano, salutiamo Deborah, che ci augura buon lunedì, ci scrive dalla Calabria. Poi un saluto anche a due fedeli telespettatrici di questo spazio mattutino, che sono Adelina e Rossana. Quindi grazie, grazie per la vostra presenza e grazie davvero per l'affetto che ci riservate. Inviateci le vostre foto di gruppo, di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, lo vedete in sovraimpressione, infochiocciola, teleradiopadrepio.it e l'indirizzo di posta elettronica. E allora, noi continuiamo ad aprire i cassetti dei ricordi di Padre Pio TV, le nostre teche, ecco, per andare a riascoltare belle e interessanti testimonianze, perché quando incontri persone che hanno conosciuto Padre Pio, davvero ti entrano nel cuore e ti rimangono davvero impresse per quello che hanno da raccontare e per le storie che le legano al Santo di Pietrelcina. Una testimonianza molto bella che abbiamo anche ascoltato in queste settimane è quella dell'ingegner Gaspare. Allora, ascoltiamo un altro pezzetto delle tante storie che hanno legato Padre Pio all'ingegner Gasparri. Poi vado dal padre guardiano, gli porto una vita di presentazione di questo medico, adesso non soviene il nome, ero un medico amicissimo di Padre Pio, malato di leucemia che Padre Pio lo mandava avanti a scappellotti. Dice, ma se sta bene, va bene. e questo padre guardiano che era padre Carmelo da Sessano mi disse, beh, due mattine si metta lì vicino a quel porticatino dove Padre Pio diceva d'estate l'ha messa fuori quando c'era parecchia gente. Io sono andato un po' prima, mi sono messo vicino a questo porticatino, vicino all'altare e ho aspettato che rivassi Padre Pio. Premetto, io lavoravo in Vaticano in quel periodo quindi il contatto con sacerdoti ecclesiastici era abbastanza facile e poi si poteva incominciare con una battuta e ho visto arrivare un frate, io lo dico adesso, in realtà, mi sembrava una di quelle immagini di Cristo che porta la croce e va al Calvario. col passo strascinato, con gli occhi sbarrati, così quanta mattina. Mi sono visto andato vicino e che gli dico a questo? Che gli dico? Che gli dico? L'ho guardato, lui si è fermato e mi ha guardato fisso e poi è andato avanti. E' bastato quello. l'ho ascoltato la messa e poi io, adesso mi confesso, e sono andato in un confessionale in fondo della chiesetta piccola e lì non so chi c'era dentro, non lo so, però so che mi metto in ginocchio incominciare la confessione e poi una sportellata in faccia. A me, a me, io poi esco fuori, ma lo prendo di petto, ma io allora, io, io, tutte queste convulsioni. Poi mi è venuto un momento, ecco, la grazia. dico, ma qui mi devo confessare, accusarmi. E sono rimasto lì, sempre dalla parte del confessionale e quando si è riaperto lo sporterino, beh, Dio padre, sono quello di prima. E allora? E allora? Allora mi sono confessato. Ecco, sono uscito fuori, contento. Poi ripartiamo, andiamo a Brindisi, faccio la mia crociera su una nave molto mondana, dove stranamente non ero quello che sareste, che ero prestato fino allora prima. Sì, ero sposato tutto, ma sai? Cioè, Cristiano all'acqua di rosa, io non ho paura di dirlo. All'acqua di rosa, all'acqua di rosa, all'acqua di rosa, all'acqua di rosa, buzza, odorano. E quindi mi sono sentito di essere diverso. E da allora è incominciato con qualche cosa. Ed è sempre edificante ascoltare e riascoltare, lo abbiamo fatto anche nel corso degli anni, queste testimonianze che magari risalgono a molti anni fa. Questa era il 2005-2006 e ci recamo a casa dell'ingegner Gasparri, che oggi non c'è più, proprio per registrare questa lunga, lunghissima intervista che poi vi abbiamo riproposto più volte. Ha parlato della confessione, ha avuto modo di confessarsi dal santo di Pietrelcina. Allora vogliamo proporvi un altro passaggio, questa volta di un confratello di Padre Pio, Padre Eusebio Notte, che abbiamo avuto anche modo di incontrare più volte, meno male che abbiamo registrato queste testimonianze, queste storie, le loro parole, sempre a proposito della confessione. Padre Eusebio Notte, ascoltiamo. Nel 1960, quando andai a San Giovanni Rotondo, io provenivo dall'Inghilterra e dall'Irlanda dove avevo studiato per fatti miei. Mi mandarono a San Giovanni Rotondo perché dovevo accudire alla corrispondenza inglese, tra parentesi, oltre mille lettri in inglese alla settimana che lavoraccio che c'era. Boh, io con Padre Pio non avevo avuto nulla a che fare, lui non conosceva ma io non conoscevo lui. Stando a San Giovanni Rotondo volevo andarmi a confessare anch'io. Allora andai a curiosare un po' in Zagristia perché avveniva e vedevo che frati, sacerdote con molta facilità li mandava via senza soluzione. Dissimo, ma vado a confessare senza soluzione oppure io ci devo vivere come devo fare. E allora un ripiego mi andai a confessare prima da un altro sacerdote. Non è che avessi chiesa che cosa ma sti santi trovano macchi anche nella luce del sole mi andai a confessare da un altro sacerdote. Feci passare i 15 giorni richiesti da lui e durante questi 15 giorni ma un angio letto più po' paura di Padre Pio che per il resto. Poi andai a confessarmi da Padre Pio nella sacristia giù in quel confessione e ogni volta che passa lì mi ricordo sempre il fatto tremavo solo solo. Feci la mia confessione Padre Pio intugiava a parlare a un certo punto mi dice ne voglio sì padre ma tu hai mai ringraziato il Signore che ti sei fatto frate? Padre non ci ho pensato pensaci pensaci che se non ti facevi frate sareste uscito un delinquente badate che un altro sacerdote di fronte al niente dei peccati che aveva portato avrebbe dovuto di bravo coraggio portati sempre bene ma Padre Pio non ha tenuto conto per niente di quello che aveva detto guardate il quadro generale il carattere e anche il rischio che c'era su di me che se non mi facevo frate ci sarebbe stato un delinquente in più però questo delinquente poi è diventato l'angelo custode di Padre Pio sempre accanto a lui notte e giorno mai una vacanza mai una feria tant'è vera che una volta Padre Pio aveva una specie di rimorso figlio mio quanti sacrifici fai per me facciamo una cosa tu pensa a me e io penso a te dico Padre Pio ma scherzo parlo sul serio no no dico sul serio tu pensa a me ed io penso a te ci penso allora ci ha pensato sempre e tra noi è nata veramente una convidenza tra padre e figlio tanto è vero che una volta pur essendo io giovanissimo venuto a dire da anni si era ammalato il confessore di Padre Pio che stava in clinica una sera nella camera aperta al pubblico eravamo lui e io a un certo punto mi dice figlio mio mi devo confessare io ero rimasto scioccato confessano santo chissà che problema mi propone avevo studiato anche io a scedicomista ma che capire di quelle cose dico padre confessate a me e me ne stavo uscendo arrivato sulla porta sento dire confiti ordeoni potenti ripetere a quei temi si facevano in latino cioè aveva cominciato la confessione e dove scappavo più tornai indietro mi mise accanto su quella portona che c'è nella camera il numero lui seduto in piedi e tremavo veramente perché aspettavo come andasse finire questa confessione beh la confessione anche se è confessione di un santo fatta di niente è segreta e non si parla ma quello che voglio raccontare è la conclusione terminata la confessione scoppiò in un pianto dirotto che mi fece rimanere scioccato perché non vedevo nessun nesso tra quel pianto sconzolato e quelle stupidagge che mi aveva detto glielo feci notare che piange perché piange che motivo c'è e allora prese lui la parola e mi spiegò eh figlio mio tu pure pensi che la confessione sia la trasgressione di una legge no figlio mio non è così la confessione cioè il peccato non la confessione il peccato non è la trasgressione di una legge è il tradimento dell'amore che ha fatto il Signore per me e che faccio io per Lui dovremmo ricordarlo un po' tutti quanti Padre Pio che aveva dato la vita al Signore aveva l'impressione di non dargli nulla di non corrispondere al suo amore dovremmo pensarci anche noi il Signore che è mendicante del nostro amore e ha il diritto che anche noi lo amiamo per tutte quelle volte che col peccato lo abbiamo tradito e Padre Eusebio ha scritto un libro intitolato briciole di storia proprio in cui racconta tanti aneddoti che lo hanno legato al Santo di Pietrelcine quindi come vi dicevo anche prima meno male grazie alla provvidenza abbiamo queste registrazioni quindi possiamo di volta in volta proporvele e riassaporare ecco i racconti di coloro i quali hanno avuto la grazia di conoscere di vivere accanto al Santo di Pietrelcine allora noi proseguiamo nel nostro sfogliare ecco pagine di storia e testimonianze legate al Santo di Pietrelcine ci sono anche coloro i quali hanno acquisito queste storie queste testimonianze dai loro genitori legate ai loro nonni come nel caso della famiglia Mizzau Pio Mizzau è stato nostro ospite durante le dirette della novena del 2017 appunto e ci ha raccontato come Padre Pio è entrato prepotentemente nella vita della sua famiglia una cosa molto bella quando Padre Pio morì mia mamma che ebbe il privilegio di poter ricevere la prima comunione perché mia mamma a Bolzano studiava in un collegio molto esclusivo di Marcellini e Dabe Inglesi e sottolineo questo non per supponenza o superiorità ma per evidenziare la difficoltà all'epoca di poter permettere a questa bambina che aveva fatto un iter di catechesi in una scuola cattolica aristocratica di poi invece arrivare a ricevere la prima comunione da quello che era chiamato come il Santo del Meridione quindi nonostante le ritrosie del parroco e dei prezzi della scuola mia mamma ebbe la possibilità grazie anche ai nonni che riuscirono ad essere perentori e convincenti a poter fare la prima comunione con Padre Pio e il giorno della prima comunione si sarebbe dovuta celebrare anzi si celebrò durante l'inaugurazione dell'ospedale quindi era il 56 se non ero 56 esatto mia mamma fu colta da un febbrone pazzesco e non poteva partecipare fu consolata non è sapere come mia nonna disperata da madre fu consolata dal fatto che Padre Pio non distribuì la particola della prima comunione ai bambini rimessasi in salute qualche giorno dopo ebbe il privilegio di poter da sola ricevere la prima comunione dalle mani di Padre Pio e per chiudere con la morte di Padre Pio mia mamma che aveva ormai deciso illuminata e consigliata a lui di rimanere di impostare tutta la sua vita qua chiese in una preghiera interiore dice padre prima venivo da te per avere dell'illuminazione dei consigli adesso che sei morto ti pregheranno tutti quindi sarà difficile avere un riscontro e se ecco qui la temerarità anche la forza di una giovane dice se posso essere tranquilla che tu mi seguirai per tutta la vita permettimi di venirti a baciare sulla fronte un'ultima volta era il giorno in cui era esposto il feretro ovviamente era blindatissimo nessuno poteva neanche avvicinarsi lei è scesa dal matroneo si avvicinò sull'altare in un momento in cui di quasi pausa esistenziale uno stand by generale riuscì ad avvicinarsi al feretro di parepio a baciarlo sulla fronte senza che nessun frate sacerdote servizio d'ordine potesse controllarla per lei fu la prima parte di una risposta perché tornata a casa per tre giorni solo nella sua camera da letto sentì un profumo fortissimo di rose cioè varcata la soglia nel corridoio nulla e quindi questa ovviamente è un'altra esperienza un altro ricordo che fa parte dei segreti del tesoro più prezioso che la mia famiglia ha sempre conservato e in assoluto avete questa esclusiva di aver ascoltato in esclusiva solo per Padre Pio TV foto tratte direttamente dall'archivio personale privato della famiglia Mizzau sì questo è mio papà in una delle sue prime visite a San Giovanni Rotondo e riusciva riusciva per lui a ricevere baciare la mano e ricevere velocemente anche uno sguardo di Padre Pio una sua benedizione era una ricarica che gli permetteva poi per i successivi sei mesi di resistere alle contrarietà della vita adolescenziali poi lui era era anche un ribelle era una persona che era alla ricerca di quello che è il siero dell'esistenza spirituale ecco un'altra foto sempre lui ecco qui con alcuni suoi amici che sono stati i primi giovani che lui portò il primo in assoluto gruppo di preghiera di giovani grazie a tutti